È evidente che durante i lavori ci saranno dei disagi perché alcune aree saranno chiuse al traffico, ma saranno lavori che avranno una durata molto breve, lavoreremo in alcuni casi anche durante le ore notturne in modo a ridurre i disagi al minimo e poi abbiamo già avviato, in modo da non pagare neanche un euro e avere più di tempo per salutare una persona o per prendere una persona che arriva con il treno nella nostra terra. Sia via Marsala che via Golisso erano spaziali completamente rinnovando e insieme al servizio dello Stato l'intera stazione verrà rinnovata, risultata, resa più bella, più accogliente.